Io disannuncio questa bella stella come diceva Vedeo prima abbiamo fatto dei passaggi di canzone in canzone passando insomma attraverso gli anni Adesso io ti consegno anche questo Ecco Guarda lo appoggiamo lì L'importante è che insomma li abbiamo per farci sentire ecco non solamente qui Ma anche in giro per il mondo Io tra poco dopo la pubblicità insomma affronterò con te un discorso abbastanza importante Chiaramente se ne parla anche all'interno del libro Parleremo insomma del tuo incontro con il Papa Parleremo insomma di questa emozione e anche della canzone importantissima che tu hai scritto Ecco vi avviso che vedremo immagini molto particolari perché nel clip che faremo vedere ai nostri amici Insomma forse è l'unico clip credo in cui ci sia Giovanni Paolo insomma presente L'unico videoclip esistente al mondo con non solo un Papa protagonista in questo caso Giovanni Paolo II E nel libro racconto dedico un capitolo non lunghissimo perché naturalmente i capitoli sono tutti brevi Per essere più concisi però giustamente è un'esperienza straordinaria che meritava insomma di essere accentuata insomma nel corso delle mie vite Anche perché poi dall'altro è accrodotto nel 1995 Devo dire intanto mi è venuto in mente in questo momento che devo ringraziare anche Paolo Udino Che mi ha aiutato a scrivere questo libro che ha curato il libro e che è un mio collaboratore lo sapete da variati anni E è stato preziosissimo perché dall'altro ha messo a posto un sacco di cose Mi ha dato degli suggerimenti preziosi e poi uno come me che si andava a cercare le date le cose Un macello invece ho scoperto che questa cosa attraverso un altro fan che si chiama Gianluca Che io l'ho cantata nel 95 quindi parliamo già di undici anni fa Assoluta sì è vero sembra una cosa molto più recente Siamo una cosa invece sono trascorsi undici anni e undici anni intensissimi Insomma che addirittura non c'è più neanche lui c'è un altro Papa al suo posto Che era presente con me a Cracovia nel 2003 quando ci sono state delle manifestazioni per il 25esimo anniversario del pontificato E c'era Papa Razzini allora cardinale era a Cracovia nella Università Jagiellonica dove Giovanni Paolo aveva studiato E Razzini era lì presente quindi conosce molto bene questo video che non solo l'ha visto quella volta lì ma l'ha tante altre volte Ma quella volta poi dopo salì dopo che ho cantato questa cosa a parlarne proprio di questo video Ne parlò, ne discusse e poi prese la sua, così faceva le sue dissertazioni su altre cose Però prese il via da questo video per cui insomma è un raccordo ideale addirittura fra i due Fra i due Papa Ci fermiamo solo un attimo, ritorneremo a parlare di spiritualità perché è anche importante insomma fermarsi un attimo Soprattutto in un mondo come questo, come quello del 2000 in cui ci affolliamo la vita di tutto fuorché del silenzio che a volte è tanto necessario Rimanete lì, ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pubblicità con Amedeo Minghi Siamo tornati in diretta su Raditalia, solo musica italiana con Amedeo Minghi E vorrei, ecco, il silenzio ci appartiene poco, ne parlavo prima di dare l'ultimo break di questa serata Però mi piacerebbe con te Amedeo fermarmi su questo proprio un attimo Insomma tu hai parlato giustamente dell'immensa emozione provata, l'incontro con il Papa, il cantare davanti a lui Però secondo me proprio c'è anche una ricerca immagino che ti è scaturita di una spiritualità diversa C'è un bisogno di avere anche qualcosa all'esterno di sé Cercare qualcosa che possa in qualche modo Sai cosa che quando incontri qualcuno che ti sollecita una ricerca interiore di quello che stavi parlando Ebbè questa scatolisce per forza di cose E' rifiutabile Tu stai cantando Vattene a morte Ebbè comunque è attinente Parliamo sempre di Credi di Credi di no E tra le qualche ombre Pure il giornale E Giova e Caraviglia Ci chiederemo con noi Il mondo sa tutto di noi Magari ti chiamerò Trottolino amoroso Da 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 E il tuo nome sarà Il nome di ogni città Di un gattino annaffiato che mi agolerà Il tuo nome sarà Su un cartellone che fa Della pubblicità Sulla strada per medio Con il naso in su La testa ci sbatterò Sempre là Sempre tu Ancora non troppo E poi Ancora non lo so Ammedeo Questa canzone La sanno tutti Cioè io guarda Te lo posso proprio Garantire Se come io lo sapevo anche il Papa Sì Sono sicuro Ma come no Come no Secondo te ti hai fatto anche per te Sì 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 Allora guarda Oh siamo riusciti A farlo diventare anche un umanista Giovanni Paolo II In un certo punto Cioè si è sbilanciato talmente tanto E insomma Tra le pieghe Sì Le sue vesti Candide Insomma Alleggiava questa Questo tifo Insomma Ho visto tra l'altro Prima se non ho guardato male Ma ho visto uno stemma della Roma qua dietro Che ha la vigilia di Inter Roma Insomma Va bene lo stesso No ma noi Stipuliamo questo accordo di pace Giustamente andiamo al telefono Pronto chi parla? Un interista Pronto Pronto Buonasera Sei un interista Ciao Alessandro da Gran Michele Ricordi? Alessandro da San Michele? Gran Michele Catania Ah Gran Michele Catania Sì certo Adesso Come stai innanzitutto? Bene Tu non tifi Inter? Sì No Ascolta io sento un po' maluccio No dico se ti fai Se tifi per l'Inter Se tu tifi per l'Inter? No no guarda Io tifo Meglio non dirlo Sono simpatizzante della Roma E tifo Juve È un momentaccio Un po' lo capisco insomma Ah lo fai per solidarietà? Eh Eh vabbè insomma Eh ascoltami Io guarda Da oggi ufficialmente sono Sogio di Primola Ah grazie Bellissimo Ci sono degli esponenti di Primola Qui in sala Questa sera? Sì Fatemi sentire Ragazzi Eccoli qua Questi qui In prima fila Di qua Benissimo Sì sì Eh a proposito ecco Prima volevo dire che L'avrei detto E Ti ringrazio Del sito Sì Non so del sito com Ma a proposito del Papa Io Nel 2003 Sempre Eh Nel marzo Ho ottenuto un concerto All'Ettorio Un parco della musica E poi Ho visto quello che è accaduto Eh Ho deciso di dedicare Questo concerto Al Santo Padre Le telecamere In due video di chi erano? Di video Italia Solo musica italiana C'era 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 Allora Questo Adesso C'era Semplice Siamo stati E Come anche Adesso L'anno scorso Eravate A Firenze A Sashow A Sashow Certo Su di me Anche lì lo prepareremo Però ci tengo a dire Che sul sito com Eh Abbiamo fatto Siamo riusciti a fare Questa cosa Tra E già Credo sia disponibile Mi pare Abbiamo messo già Insomma si può acquistare Finalmente Questo video Dove c'è un concerto E tante cose Dentro in edit Per esempio c'è il video Vicerei Tante cose Soprattutto abbiamo sdoganato Questa cosa Dalle multinazionali Che siccome Capito Insomma La cultura Dice Che ci fanno Con Vicerei Che ci fanno Io saprei cosa fare Di te Con un Vicerei Ho risposto Infatti Questa sera qua Non sono presenti Questo ci tengo a dirlo Gli esponenti Della mia multinazionale Non sono venuti E non ce ne frega niente Siamo andati avanti Lo stesso Tranquilo Allora Allora il nostro amico Di Catania E' ancora là Lo salutiamo Ciao Volevo dire una cosa Non voglio partire Altro tempo No figurati Quindi Aderivo da oggi A Primola Siccome anch'io Sono presidente Di un'associazione culturale Che è molto impegnata Nel sociale Chissà se potremmo Organizzare Qualcosa in beneficenza Assieme Visto che oggi C'è bisogno Insomma Di tanta cosa E tanta presenza Che si avvicini Ebbene noi qualche cosina abbiamo fatto Stiamo facendo Comunque Al prossimo raduno Quando ci incontriamo Ne possiamo parlare Personalmente Magari ne parliamo personalmente Io so che tu il 30 maggio Sei a Catania Sono a Catania Non mi risulta Sono a Catania E vuol dire che a Catania A Catania vi vedrete Grazie Un bacione A Catania ci vediamo Abbiamo parlato molto Di questa canzone Abbiamo parlato di questo clip Per cui ascoltiamo Un uomo venuto da lontano Nel libro c'è una cosa Di Catania Una città che io adoro E nella quale Ammetto Vivrei volentieri Ecco E' una delle città Proprio di pugno Oramai è tutto scritto qua E quindi chissà Non mi posso spostare Perché oramai poi Ho anche un nipotino Oramai devi Insomma Una prole Mi mica tanto Poco ma buono Ho il nipotino Però il nipotino E' totalmente straordinario Quindi non andrei da nessuna parte Resterò a Roma Accanto a lui Sì Accanto a lui Un uomo venuto da lontano Sarà possibile L'ascoltiamo L'ascoltiamo Eccola qua Applausi 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 Applausi